Aderisco alla manifestazione del 14 novembre in Roma, indetta dal movimento Agende Russe Scorta Civica di Palermo, a difesa e a tutela del Pubblico Ministero Nino Di Matteo e di tutti gli uomini e le donne addetti alla sua sicurezza. Bisogna proteggere con una scorta civica nazionale da parte di noi tutti e da parte dello Stato, questo magistrato coraggioso che insieme ad altri magistrati coraggiosi sta sostenendo l'accusa in uno dei processi più delicati della storia repubblicana, quello della trattativa tra Cosa Nostra e Pezzi di Stato, un processo che dà fastidio a molti, che dà fastidio a un pezzo di Stato, che vede implicazioni ad altissimi livelli istituzionali, la maggioranza degli abitanti, dei cittadini del nostro Paese è con Nino Di Matteo, la parte sana delle istituzioni, la parte sana della magistratura, la parte sana dello Stato è con questi servitori. Quindi forza Nino di Matteo e coraggio a tutti quelli che si sono schierati con lui.